Buongiorno e bentornati in compagnia del podcast di Nurse24.it, in studio Leila Benzale e Sara Di Santo che vi augurano buon sabato 4 novembre. Restano i livelli A, B, C e D, ma arriva una nuova classificazione del personale pubblico in sanità. È la proposta avanzata dall'Aran sul tavolo della trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro con i sindacati. L'idea è di aggregare i profili professionali del personale del Sistema Sanitario Nazionale nelle seguenti aree prestazionali. Area sanitaria, che comprende le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione e le arti sanitarie ausiliarie. Area dell'integrazione sociosanitaria, che comprende OS, assistenti sociali, educatori professionali e puericultrici. E ancora l'area di amministrazione dei fattori produttivi, comprendente il personale amministrativo, tecnico e professionale. E infine l'area tecnico ambientale per il personale tecnico professionale delle arpa. Ripuliva o faceva perdere le tracce delle provette di sangue degli automobilisti con tasso alcolemico superiore al limite. 200 euro a provetta, così un infermiere dell'ospedale di Giulianova è finito nei guai. A scoprirlo è stata la polizia stradale, dopo sei mesi di indagini, che ha arrestato anche un automobilista della confraternita della misericordia Onlus di San Nicolò a Tordino, che si occupava del trasporto delle provette. Il GIP ha disposto l'obbligo di dimora per entrambi. L'infermiere esperto in comunicazione ipnotica è un professionista della salute che, dopo un percorso formativo specifico, ha al proprio arco una freccia in più per erogare un'assistenza di qualità. La padronanza della comunicazione ipnotica, infatti, permette di raggiungere un effetto antidolorifico e antinocicettivo tale da ridurre il dolore di almeno del 50%. Sul nostro sito trovate un approfondimento su questa figura. Buone notizie per il personale infermieristico in comando all'ASP di Agrigento. L'azienda ha infatti disposto l'assunzione a tempo pieno e indeterminato del personale infermieristico che svolge il proprio servizio presso l'ASP in posizione di comando. Il provenimento di immissione in ruolo deliberato dal commissario Gervasio Venuti consente di assicurare la continuità della presenza di ben 34 infermieri nei reparti ospedalieri agrigentini, scongiurando così il loro ritorno nelle aziende di appartenenza al termine del periodo di comando non più rinnovabile. Per i lavoratori l'assunzione avverrà di fatto attraverso la mobilità volontaria. Torna Nighting Hall, il torneo di calcio a 5 per infermieri e studenti infermieri di tutta Italia. Le iscrizioni per partecipare alla prossima edizione, in programma dal 18 al 20 maggio a Cervia, si apriranno a metà gennaio fino all'esaurimento dei posti a disposizione. Possono partecipare tutti, senza limiti di età o territoriali. Sono ammesse anche squadre miste formate da infermieri di diverse zone ed è possibile iscriversi singolarmente. I giocatori senza squadra potranno essere inseriti nelle altre selezioni oppure darvi text nuovo a una nuova compagine. E per questa settimana è tutto, il podcast di Nurse24.it vi dà appuntamento a sabato prossimo, continuate a seguirci sempre su Nurse24.it.